Hanno ammesso di svolgere attività di servizio funebre, ma non di essere nella sostanza gestori del cimitero, pur erogando una serie di servizi che sfetterebbero al gestore, ovvero a comune di Sulmona, e questo in sintesi il contenuto delle dichiarazioni rese al giudice del Tribunale di Sulmona, Daniele Sodani, dei primi tre testi, l'interrogati nel gergo giuridico, che hanno sfilato questa mattina nel corso del procedimento civile intentato dalla casa funeraria SRL di Caliendo e Celestial nei confronti dell'Arci Confraternia della Santissima Trinità e della Confraternia di Santa Maria di Loreto. Oltre due ore di escursione nel corso della quale sono stati sviscerati una serie di punti. Davanti al giudice si sono presentati due rappresentanti legali dei sodalizi, ovvero Sandro Di Paolo, priore della confraternita, e Antonio Di Nino, rettore dell'Arci Confraternita, unitamente all'ex commissario del sodalizio lauretano Pietro Ciccarelli. Sostanzialmente i testi hanno confermato di svolgere attività di servizio funebre, ma solo sui padiglioni di competenza, ottemperando cioè quei servizi che spetterebbero al gestore, come a dire che una serie di attività il Comune non provvede a farle. Alle confraternite viene infatti contestato l'esercizio del doppio ruolo di gestore di servizi cimiteriali e attività di onoranze funebri, in contrasto tanto con la normativa regionale di riferimento che con le disposizioni antitrust. I ricorrenti, per il tramire dell'avvocato Armando Valeri, hanno chiesto non solo di porre fine a questa doppia attività, ma anche un congruo risarcimento danni. Per i legali dei due sodalizi, Lando Sciuba e Antonio Penza, la tesi degli imprenditori è da rigettare. L'udienza è stata aggiornata prossimo 28 ottobre per sentire altri testimoni ed è facile pensare che quest'anno, al posto della consueta processione dei Santi, arriverà la decisione del Tribunale.